buongiorno a tutti benvenuti a questa nuova giornata di formazione organizzata da studio sigaudo in collaborazione con il dottor matteo barbero oggi si parlerà di duppo e documento unico di programmazione voglio ricordare a tutti i partecipanti che il corso sarà registrato pertanto se non desiderate comparire vi chiedo gentilmente di mantenere le telecamere spente e anche i microfoni silenziati qualora vogliate fare delle domande potete utilizzare la chat il dottor barbero riserverà gli ultimi 20 minuti per rispondere ai vostri quesiti tengo a precisare che la registrazione e le slide saranno disponibili tra due tre giorni lavorativi sul nostro portale formazione tutto pia e saranno disponibili solo per chi ha il pacchetto soluzioni tutto pia attivo se volete poi delle informazioni in merito al pacchetto potete scrivere alla nostra mail formazione chiocciolastudiosigaudo.com lascio la parola al dottor barbero e auguro buon corso a tutti buon pomeriggio anche da parte mia grazie a Sara per l'introduzione grazie a voi per la partecipazione oggi abbiamo come come argomento come sapete come vedete dalla dalla prima slide il dup è il documento unico di programmazione tema su cui tanto si è scritto tanto si è ragionato quindi un tema non nuovo ma sul quale è sempre sempre opportuno insomma instaurare una riflessione approfondita specialmente in questo periodo in cui ci stiamo avvicinando a grandi passi alla scadenza alla prima scadenza diciamo quella normalmente più più avvertita da tutti gli operatori del settore cioè quella del 31 luglio che è la scadenza come sapete come vedremo entro la quale di norma deve essere presentato il dup relativo al triennio successivo